Buongiorno, che cosa posso offrirvi? Un caffè subito, ve lo faccio subito. Allora, vediamo un poco il piattino, come dicono le persone che fanno bene, il zucchero e il cucciarino. Perfetto. Guardate voi ogni volta che venite in questo bar. Mi conoscete sempre? No, so per esempio come se avessi il sentore, la traccia che vi conosco, ma per esempio non mi metto a cuore. Mi ricordo il lento, ma non mi ricordo la colpa. Capite chi sono sicuramente. Io ho capito, voi siete un cantante napoletano, vi ho citato la visione, avete fatto pure parecchi teschi che girano sopra, voi siete tu gli opane. Voi siete, aspettate un po', voi siete... No fiore, l'uvo l'adoro! Ma non è mezzo di no fiore. Voi siete... Voi siete l'unica voce importante di Napoli tecnicamente, Alberto Amatro! Ah, sei buono, ti tirano le mie, sei attivo, ti tirano le mie. La tramontana, la tua... Ah, tu hai fatto! Siete, vai tu con la peoria. Io quando ero piccolo, mi sentivo... Io quando ero piccolo, mi sentivo... Io quando ero piccolo, mi sentivo sempre una canzone, mi sentivo sempre... Allora facciamo una cosa. E la prossima è un bel momento in Lente. Perché voi vedi che ho già l'unica, allora io non mi vorrei stare con l'unica. Ma non mi sentivo sempre una cosa. Ma non mi sentivo sempre una cosa. Io vi ho frittato. Bello, alto e il stretto. Quindi, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me. Grazie. Grazie. Dunque, per me, per che l'altro lavoro... Non mi preoccupate. Era veramente troppo sempre. Buon appetito! Grazie! Grazie a tutti.